Ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video, sono in una location un po' particolare perché siamo in bootcamp con i ragazzi di Humble Abbiamo Mattia e Noisy, poi vi lascio i loro social in descrizione E oggi io sarò, come l'avrete letto dal titolo, il loro coach Come se loro mi avessero assoldato, oggi sarò il loro coach per tre partite E in più ragazzi, content nel content, se guardate la lobby abbiamo anche Raxor che ci fa da aiutante fuori campo Tanto dobbiamo rimanere in Famiglia Humble Bellissimo Ciò detto questo, io in questo momento loro faranno la parte di un classico follower che mi chiede l'aiuto per la comp, per le giocate e tutto Io cercherò di aiutare durante le partite, Noisy giocherà col mio account Perciò io potrò guardarli entrambi e aiutarli nelle giocate E niente, si faranno le loro tre partite e poi tireremo le somme, insomma io nel mentre li aiuto Un specifico e un onore Dai ragazzi, ci vediamo in partita quando abbiamo sistemato tutto Prima volta che gioco da iPad Ah è vero, oltretutto per noi c'è la prima volta e con l'iPad Pro Mamma mia Di player di oltretutto Mamma mia Attenzione nel account sharing perché siamo qua e gli ho prestato direttamente l'account È completamente diverso, è bellissimo In questo caso occhio al Dynamite che appunto lui ha la possibilità di scavalcare i muretti Ok Bravo Ok, bravissimo Ecco con Lily appunto l'obiettivo è cercare di scavallare loro per andare a dar fastidio Perfetto Molto molto bravo Qua portate avanti la palla Ok, ce lo siamo levati uno Vai potete anche provare a pushare, vediamo un po' Ok Aia, 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 aia Mi ha fatto malissimo Ecco prova a recuperare un po' di vita Ok Non affrettarti troppo, non c'è bisogno Tanto è arrivato anche Tia Ok Che se ne va troppo Eh infatti Ok Ok tieni te Prova a fargli perdere tempo Ok Vedi l'obiettivo qua per esempio era tenere un po' di più la distanza Ok Perché se più tempo gli fa perdere Perché poi dopo loro se si piazzano da lì fate un po' fatica a uscire Ok Gli metto pressione? Eh prova, occhia la palla perché ricordi che siamo su foot Palla è il centro della vostra attività Bravi Ok Bravo che l'hai tirata su E allora si Sempre pushate da due parti così li tenete belli larghi Ok Gadget le copre la vita Anche Tia, quanti gadget hai? Ancora uno perciò ora si è simonioso Me lo conservo questo Io ho usato il primo Non so se ho fatto bene ma stavo perdendo tantissima vita Peccato per l'ultima c'era, era bellina l'opportunità Ci stava Ok E i bomboni del dynamic bisogna stare attenti Provate a prediktarli ma è abbastanza bravo comunque È molto bravo questo Vi sta prediktando bene lui Che è in modo Ahia Questo è bravo Eh vabbè giustamente CR7 su foot Poteva non essere bravo Il meme del Sium Guarda che ha pure aspettato una cosa che odio Esatto esatto Vai provate l'ultimo push aggressivo Ok Mamma mia stu danna Ma che ho ancora i gadget No vabbè con l'hypercharge tic Mamma mia Non so cosa avrei potuto fare Mamma mia Questi proprio forti Eh vabbè Vuto un po' sfiga del doppio trower Attenzione però 12 secondi Credeteci ancora Prova prova E ormai è detto per dritto E non si torna indietro adesso Ok 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 Vai Vai passa 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 Non ce l'è Non ce l'è Non ce l'è Non ce l'è Mamma mia All'ultimo secondo Avete il vantaggio Tettia devi provare a avvicinarti Per provare a caricarti da ulti Eccolo bravo Bravissimo Presa posizione È il vostro momento Vai 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 noisy con la ulti Dai Prendi palla ulti Ulti scusami E' uguale E' uguale E' uguale E' uguale Mamma mia Ah vabbè Giustamente Ti hai anche L'handicap di giocare Da un ipad Con i tasti diversi Perciò insomma Lui ha anche Qualche difficoltà extra È vero Perché giustamente Ha i miei tasti ragazzi Quello è molto personale Però posso dirti Che mi sto trovando Veramente bene È tutto È tutto in grande È più bello Ecco Sicuramente La differenza che nota lui È anche la fluidità A parte lo spazio più ampio Perché giustamente Da telefono È tutta un'altra storia Però puoi avere più Schermo a disposizione E guarda che fa Perché riesce a vedere meglio Anche gli avversari Sì sì Cattivissimo Riesce a tenere meglio Di più la zona Mi sto convincendo A prendere noi i passi Ok siamo con il secondo match Avete beccato un altro trover Comunque Ce l'avete A Tia A lei il compito Anche se questa volta Non è facilissima Perché l'area lori Non è male Io trovo che Nonostante il nerf È ancora fortissimo Assolutamente sì Qua mi conviene Cambiare lane Ok Potresti Ecco Adesso siete rimasti Un po' scoperti Dalla parte E mi sa che E lì devi Stare attento Provate esatto così Così a lui Se lui va avanti Ok ci siete i noisy dietro Vai Se Raxor vi prende la palla Ecco vai Pushate Del noisy Spinge adesso Anche i gadget Tutto quello che c'hai Clicca tutti Tutti i tasti Ok Perfetto 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 Bravi Vai Easy Grazie mille Questo io ho tirato tutto Proprio da bello Sì sì Ma quando Bisogna tirare tutto Bisogna tirare tutto Sì Quando si vede Che si sta avvicinando L'occasione Ok lui sta andando Allora l'è rifatto Che è fatta anche la coppia Lì la pro tips Se sei velocissimo Noisy Quando vedi La sua Iconcina viola sotto Gli dici Se è vicino a qualcuno O lontano Che per esempio Lui è andato verso destra L'erri è andato a sinistra E l'ha missato Ha sbagliato Gespuglio Lì pro tips Se siete in bocchi insieme O in questo caso Proprio letteralmente Un accanto all'altro Gli dici tipo Ce l'hai a sinistra Ok Non ci ho mai pensato Perché non ho abitudine Nel blocco Però grazie mille Esatto Io tengo occupata Bibi Ok Bello l'aiuto Su Raxor Ok Vabbè però Hai tenuto Prova a rimanere nel mid Per non far avanzare Troppo le rellori Tanto c'hai anche Lo scudo Reggi un po' Così magari Ti ricarichi anche La ultima Mentre Ok Vabbè è arrivato Il Fang Però è dietro Ahia però Rischio È arrivato che è rimasto Rischio Vabbè dovreste In realtà Raxor Ha indebolito la copia Ok bravo Forse ce l'ha fatte Si sono coordinati bene Madonna Però aspetta Attenzione Aspetta aspetta Forse 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 Ah no ce la vediamo Ah no ce la vediamo Ah no ce la vediamo Vabbè comunque combattuta Combattuta Oh per la prima volta Senza trovere Attenzione Finalmente Ce la facciamo Mamma mia Speriamo Ok Ok Vediamo un po' Ok ne avete due Dei lati Noi si hai la lane un pochino Più libera Ok Perfetto Vai Anche la Ok Peccato Occhio al Doug Bravissimo Lascialo anche One shot Ok Ce la posso dire Un po' Di vita Benissimo Bravi Ok Ah era lì che aspettava Il Doug E prova a girarlo Perché se gli passi Vicino Devi passargli Ma in verità Cercavo l'alienment L'ora spawnava Non so se ho fatto Cioè bene o male Vabbè non è male Sono nel bush qua Ok Ok Occhio al Mortis Si può prendere la palla Ricordatevi che il centro Della partita È sempre la palla Su foot Il focus È quello Bisogna stare sempre attenti Al posizionamento Ok Ok Raxor comunque La sta attendo Lì non è male Così avete tempo Per respawnare Ok Potrebbe andare giù Il Doug Bravi Vai è arrivato il momento Vai Noisy Anche il gadget Ricordatelo Che ce l'hai So che magari Non lo trovi Ok Vai 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 Qua insieme sul Doug Bravissimo Quanto è vita E occhio dietro Vediamo un po' Se Raxor la difende Non mi sa che è passato No Qua fosse sbagliato io Pushare Vabbè vabbè Si si focussano tantissimo Su di me Ok Siete rimasti Ah peccato Il Doug Eh perdi tempo Eh sì Vabbè Quanto lo odio Vabbè la palla è là Eh non è facile Non è facile ma potete farcela Il tempo ce l'avete Anche il gadget Usa tutto Noisy che ormai Mancano 20 secondi Ok Tiriamo tutto E se è il momento Di usare tutto Come prima C'è il Doug Che vi sta aspettando Nel palesemente Eh no De lì non si passa Aspetta che ho levato la palla Ah è mamma mia Il Doug Che bush Peccato Ok va bene Il Doug Ormai è la vostra maledizione No io tengo La destra Vai Ok ok Vado di sinistro Ok Ottima cosa Subito la Lily Che parte a destra Bravi che avete evitato Lo stun Occhio solo a Rico Che vi può dare fastidio Lui si inserisce Prova a pushare anche te Noisy Giustamente Se non lui È da solo Da solo Vai È qua Eh lì vai È il momento di pushare Tutto Buono Bellissimo Bravi bravi Bello bello E se lui trova lo spunto Anche te e noi si devi andare su Senza paura Se vedi che lui va E fa qualcosa Te è subito dritto Senza pensare Uh mi ha stunnato Ok Cioè qui invece Devi tornare indietro Prova a dare una mano Però vabbè Vi abbiamo pushato bene Ok va bene Ok va bene Occhio allo stun all'inizio Tanto l'ha già fatto due volte Lo fa anche la terza Al massimo Premiti subito il gadget Che te hai Quella grande possibilità Lì Bravo Perfetto Ok Vabbè vabbè L'importante è fare Una kill E poi anche se ti kill È sempre uno Uno Ok vediamo anche Raxor Tutta le mine Vabbè qua il mortis Si farma un po' di ulti Però avevo Raxor comunque Guarda che ha tenuto bene Ok Qua ti conviene aspettare Perché non so se Riesce a fare cose incredibili Magari aspettare un pochino Qua era meglio Però vabbè Sì 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 Fatto prendere un po' Da Dalla fuga Attenzione al dynamike Occhio che ha l'hypercharge Oh no Eh questo ora è pericoloso Madonna Rischio E noi se c'è la palla litte Prova a buttarla via Bravissimo Vai che c'hai l'occasione Attenzione Prova a schivare E qua è la prova del nove Ah Vediamo Attenzione No Quasi Oh Sulla riga Va bene Non ci credo Mamma mia E allora ragazzi Direi che qua insomma Il like E l'iscrizione Sia sul mio canale Che sui loro Che trovate in descrizione Se lo sono meritato Si sono dati da fare Ho apprezzato il loro impegno Che hanno messo E ringraziamo anche Raxor Ovviamente troverete anche il suo canale Che ci ha aiutato Come avete visto Da giocatore fuori campo E ringrazio ancora una volta Mattia e Noisy E noi ragazzi Ci vediamo Al prossimo video Ciao ragazzi Ciao ciao